Allora abbiamo visto la storia di Develo, il punto cruciale in cui sono arrivati, bisogna a questo punto saltare, fare un salto, un salto di qualità per il quale occorrono naturalmente anche finanziamenti e entra in gioco Veneto Sviluppo. Voi che cosa offrite l'abbiamo visto, abbiamo capito, quindi una finanziaria con partecipazione al 5-2% della regione del Veneto che vede come questa azienda Develo, un SRL peraltro. Sì, un SRL, ma avrete capito che in termini di imprenditorialità, di approccio al mestiere, al lavoro ci troviamo davanti dinanzi ad un'impresa evoluta mentalmente, un'impresa che ha la capacità di interpretare le dinamiche del presente ma lavorare in prospettiva. È un caso a mio avviso di eccellenza di questa regione e non solo di questa regione, quindi deve essere un esempio anche per molti altri imprenditori che hanno le idee e hanno anche le capacità e le condizioni per fare un passaggio di crescita. E credo che questo sia un esempio che sia emulabile. Vi faccio qualche esempio molto pratico per capire non solo i parametri anche di valutazione ma quali sono degli elementi che poi valorizzano ancora di più. Questa è un'impresa che poco più di dieci anni fa faceva 500 mila euro di fatturato, largo circa, e nel giro di dieci anni l'ha moltiplicato quasi per dieci. Siamo superiori ai 4 milioni e mezzo di euro di fatturato, con una prospettiva di crescita altrettanto importante. Quindi un fattore esponenziale molto, molto importante. E lo ha fatto sempre su progetti industriali, su un progetto valutato, digerito, passo dopo passo, abbinando la competenza professionale ad una giusta programmazione finanziaria. È una società che ha un po' più di 60 dipendenti, l'età media è inferiore ai 30 anni. Questo rileva in senso positivo. Questo è un rilevo assolutamente positivo. Noi dobbiamo dare non tanto una promessa, ma le condizioni economiche perché i giovani di questa regione abbiano un qualcosa in cui credere, e abbiano un qualcosa in cui poter investire sul proprio futuro, per non uscire necessariamente da questa regione o da questo territorio. Cioè con le risorse regionali, con le risorse della finanziaria della regione del Veneto, dobbiamo fare in modo che imprese meritevoli, poi parliamo delle imprese che sono altrettanto meritevoli ma che hanno altri tipi di problemi di accesso al credito, questa è un'impresa che ha già scavallato questo tipo di problema, dobbiamo metterle nelle condizioni di costruirsi un futuro. Quindi giovani che si sono messi in discussione e che avevano la necessità di avere un partner finanziario che li accompagnasse non per quello che avevano fatto, ma per quello che hanno e abbiamo intenzione di fare assieme. Quello che noi abbiamo valutato è parzialmente la loro storia, ma quello che abbiamo valutato con grande attenzione sono i progetti che hanno consegnato, messo sul tavolo, nero su bianco, rispetto ai quali siamo entrati verticalmente uno su uno. Progetti vuol dire idee? No, progetti vuol dire un'idea a livello già digerito, ma anche una serie di accordi, di partnership, di pre-contratti già avviati rispetto ai quali ci sono le condizioni per dire se tu entri nel mio capitale, mi dai un'iniezione di liquidità, mi metti nella condizione di essere ancora più competitivo rispetto a quello che oggi sono, perché oggi già sono quotato nel mercato, sono nella condizione di crescere in maniera ancora più importante a livello esponenziale. L'obiettivo nostro è quello di far sì che questa azienda non solo non abbia una presenza invasiva da parte di Veneto Sviluppo, noi entriamo come socio di minoranza e a dispetto di quanto fanno altri fondi, abbiamo lasciato che questo fosse il management, che lui fosse l'amministratore delegato e noi stiamo investendo danari, ma stiamo investendo su una cultura aziendale e su un modo di fare impresa. Siccome crediamo in questo presidente, in questo amministratore delegato, in questo direttore, in questo gruppo di giovani, abbiamo detto entriamo da soci, quindi tempo per tempo faremo delle valutazioni evidentemente assieme, ma crediamo che questo modello sia un modello che funziona. Ad esempio, il fatto di avere come partner Google, il fatto di avere come partner eBay, il fatto che questo venga da una realtà vicentina e non da una realtà new yorkese o di qualsiasi altra città del mondo, significa che si può in questo territorio avere un'idea e si può mettere in piedi un progetto finanziario. Ma questo avviene perché Veneto Sviluppo ha cambiato la sua compagine, diciamo così, amministrativa, governativa, siete anche voi tutti giovani, perché magari chi ci ascolta ha avuto in passato a che fare, vedeva come un ente un po' più rallentato e farraginoso. Beh, noi abbiamo la necessità, io l'ho detto in premessa, se volessimo dare una lettura a chi ci ascolta, a chi ci sta guardando, che tutto va bene, tutto funziona, io credo che sarebbe una lettura non onesta e non corretta. Ci sono degli elementi rispetto ai quali noi possiamo migliorare, però è altresì vero che dall'inizio dell'anno a oggi abbiamo fatto sei investimenti partecipativi molto importanti. Per noi questo è estremamente importante, ma ne abbiamo fatti altri cinque. Vi do un esempio, sei investimenti partecipativi da gennaio a oggi rappresentano più del 15% di tutti gli investimenti fatti in Italia. Questo significa che noi forse abbiamo lavorato in questa direzione con una grande attenzione e con uno spirito anche diverso, ma è altresì vero che questo è un mercato, quello nazionale nostro, non maturo. Vi faccio un ulteriore esempio. Una delle cose che a me è piaciuto molto è la necessità di investire sulla cultura, è la necessità di investire sui cervelli delle persone. Che dentro questa società noi si sia partner investendo parte dei denari anche su una scuola interna, la Debenon School, che significa formare il proprio personale in maniera continua, ma fare in modo che questo personale già formato possa formare dirigenti o addetti di altre aziende, proprio per replicare e ripetere questo esperimento, questa esperienza e questa attività. È importante che da questa società possano venire fuori i manager del domani. Io credo che sia assolutamente importante. Noi dobbiamo dare una chiave di lettura per cui imprese che hanno fatturato di pochi milioni di euro e che hanno un progetto davanti sono nella condizione oggi di, in qualche mese, avere un interlocutore che dice possiamo fare un percorso assieme o no? Noi ci siamo dati peraltro un arco temporale abbastanza breve, qualche anno con l'auspicio che questa società decolli, si moltiplichi, dopodiché noi saremo nella condizione di dire siamo pronti per altri investimenti e voi potrete fare diversamente. Ecco un altro messaggio, dopo li leggiamo tutti quanti, il nord-est si distingue sempre, vediamo se ce lo possono rimettere anche in onda cortesemente dalla regia che stavamo leggendo il messaggio, il nord-est si distingue sempre per le idee innovative e credo che un'azienda come la vostra fa onore al nostro territorio. bravi, vediamo anche il messaggio precedente che riguardava le istituzioni, vi consideravo un po' un'istituzione, il nostro telespettatore, se cortesemente anche la regia può metterlo in onda così può rispondere anche il nostro interlocutore di Veneto Sviluppo, adesso magari guardando il monitor appena compare il messaggio. Io l'avevo portato via la parola. Sì, volevo collegarmi a quello che dice Luca, un aspetto importante ed è, mi sento anche, infatti lo vede, lo sta leggendo e dopo risponde. Prego. Un messaggio che vorrei dare anche a chi oggi inizia un'impresa nuova nel nostro settore, nel settore del digitale, o che vuole fare un cambiamento nella propria azienda, un'evoluzione, una crescita nella propria azienda. Noi ci siamo presentati a Veneto Sviluppo portando, come diceva Luca, una progettualità. Il fatto di arrivare con un disegno strutturato che è la Devlin School ci permette di guardare al nostro nuovo socio per portare non un'idea di qualcosa che vorremmo fare. Abbiamo portato un progetto già declinato, già testato, perché noi quest'anno abbiamo già messo in piedi la Devlin School, abbiamo fatto 800 ore di formazione all'interno dell'azienda in quest'anno 2013. Tra l'altro un modello molto innovativo, perché le persone che sono arrivate sono state formate sia dal personale interno e quindi hanno potuto percepire la cultura del lavoro, come si risponde a un cliente, come si vive tra colleghi. Al tempo stesso abbiamo coinvolto dei partner con i quali lavoriamo da anni, come Google, da Dublino, eBay, Gartner, il più grande analista nel settore del mercato digitale a livello mondiale, che ci fanno formazione sia sia ai colleghi e al personale interno che al personale esterno. Questo cos'ha un vantaggio? Che noi a fine anno, dopo questo percorso formativo, siamo in grado di individuare dei talenti che possono rimanere all'interno dell'azienda Devlin, o possiamo dare al mercato. Oggi sa quante aziende mi chiedono, mi può dare un'applicazione, una soluzione, una piattaforma di commerce e affiancarla a una persona che è in grado di gestirla? Perché mi rendo perfettamente conto che per alcuni imprenditori è un cambio di cultura. Questo è un nostro dovere, poter fare e dover fare questa cosa. Assolutamente. Un altro esempio, che è legato per esempio al mercato dell'e-commerce, e mi collego perché un investimento di Veneto sviluppo per noi è importante. Nel mondo dell'e-commerce abbiamo creato un portale che si chiama Tutto Casa Giardino, in partnership con eBay. Il mondo Tutto Casa Giardino l'abbiamo creato noi, l'abbiamo identificato con questo nome e già oggi, a distanza di sei mesi dal nostro lancio, abbiamo collettato dodici aziende venete che ovviamente producono prodotti per la casa e per il giardino. Quest'azienda non erano in grado di entrare nel mondo del commercio elettronico, di capirne le logiche e le potenzialità. Abbiamo detto, ci pensiamo noi, rischiamo noi nel far questo. Voi dateci il vostro prodotto, il vostro magazzino, noi verremo a prendere il prodotto e lo consegneremo a casa. Quindi funziona il commercio elettronico? Commercio elettronico funziona, non si può ovviamente generalizzare e funziona nel momento in cui viene fatto bene. Mi collego su quello che mi chiede. Se lei apre un negozio in Corso Milano e in Corso Milano non fa una giusta promozione e quindi non attira un potenziale cliente o parallelamente a Corso Milano, nella via parallela, c'è un negozio identico al suo che vende il suo prodotto a metà prezzo o a un servizio migliore non funziona. L'online è esattamente uguale, richiede una strategia di posizionamento, una strategia quotidiana di comparazione del prezzo del competitor. Attenzione, quando sei online il tuo prodotto è in tutto il mondo. Quindi, le persone oggi che sono nell'online vanno a fare una comparazione, una ricerca del prodotto in tutto il mercato dell'online, che vuol dire in tutto il mondo. e bisogna farlo bene. L'operazione di Veneto Sviluppo cosa significa? Poter investire dei soldi su un portale come tutto Casa Giardino per promuoverlo, per portarlo a conoscenza dell'utente online, per aiutare queste aziende ad aggregarsi. Perché è vero, c'è la grande azienda che è in grado di poter utilizzare un servizio come Devlon, ma ci sono anche dei piccoli artigiani e delle piccole aziende che non sono magari in grado di affrontare singolarmente il prodotto, ma possono trovare l'aggregazione, una rete di impresa e attraverso questa rete di impresa possono usufruire di un servizio. Ecco, gli chiedo questo. L'ha notato anche i nostri tre spettatori mandando un messaggio di complimenti. È un'azienda innovativa, giovane, propositiva, è in un settore poi strategico in espansione, l'abbiamo visto. Però, c'è un però, ci sono tantissime realtà nostre che invece si basano su altra tipologia naturalmente. quelle aziende possono trovare ugualmente un supporto e in che termini si può dare, potete dare una mano, possono trovare un aiuto per crescere perché quello che si continua a parlare, ne avevamo ieri anche un esperto ma che continuano ad arrivare, è l'internazionalizzazione, guardare i mercati esteri perché tanto dentro qua è tutto fermo, niente si fa per muovere qualche cosa a livello economico, le aziende si strutturano magari per andare all'estero e poi vediamo che non ce la fanno economicamente non questo non quest'altro magari con prodotti manifatturiero noi siamo una realtà di manifatturiero interessantissimi anche innovativi anche particolari però c'è un però e avrebbero bisogno naturalmente di quel quid che può essere una cifra rilevante o meno per andare verso altri mercati magari anche approcciare con un discorso di commerce ma manco sanno che possono farlo perché poi è difficile anche andare fisicamente all'estero costa e questo può supportare lascio rispondere a Luca esatto con piacere mi permetta una considerazione noi siamo in un territorio nel quale molti degli imprenditori che caratterizzano l'economia di questa regione sono passati da precedenti decenni da una fase di dipendenza a una fase in cui sono diventati dei piccoli imprenditori oppure si tratta di generazioni che portano avanti questo tipo di attività chi negli anni precedenti negli anni scorsi non è stato in grado di strutturarsi oggi sta sentendo questa situazione congiunturale in maniera molto più negativa e molto più pesante che non rispetto agli altri allora non c'è una risposta secca perché chiunque oggi dica c'è una fonte di finanziamento un fondo una garanzia uno strumento specifico mente agli imprenditori sapendo di mentire diciamo le cose con grande onestà cari amici imprenditori lo stesso tempo che oggi si dedica 10, 12, 15 ore al giorno all'interno della propria azienda è molto importante ma è altrettanto importante che vi facciate supportare seguire in una corretta programmazione finanziaria vi faccio un esempio oggi poiché una volta la valutazione del merito creditizio era dettata molto anche da un rapporto di conoscenza banca, impresa una stretta di mano aveva un significato oggi ci sono dei meccanismi di rating di valutazione molto più analitica di bilancio piuttosto che non della singola conoscenza dell'imprenditore non pagare una fattura essere in ritardo sconfinare sul conto corrente vuol dire massacrare la propria impresa vuol dire mettersi nella condizione di non essere più bancariamente affidabile la prima cosa è essere ordinati nella propria gestione finanziaria la seconda cosa è oggi bene o male siete tutti assistiti o dalle associazioni in categoria o dai propri commerciali dai vostri commercialisti piuttosto che non dai vostri consulenti interni dovete chiedere di più dovete chiedere di essere assistiti preventivamente e non successivamente perché nel momento stesso in cui siete sconfinati o siete segnalati in centrale rischi cominciano i problemi della vostra azienda oggi noi come possiamo intervenire beh innanzitutto abbiamo ricreato un rapporto diverso tra istituti di credito e consorzi figli di garanzia e abbiamo chiesto a tutti che ciascuno facesse la propria parte oggi il sistema bancario non ha problemi di liquidità perché a fronte dell'allargamento dei cordoni della borsa della banca centrale europea le banche oggi hanno liquidità però hanno un altro problema che è quello che non vogliono portarsi in pancia ulteriori sofferenze bancarie allora proprio perché c'è questo tipo di problema e le banche sono chiedo scusa sono delle società rispetto alle quali anche loro il termine bilancio non è una cosa così da sottovalutare abbiamo chiesto loro che in partnership in un accordo scritto i consorzi figli prestassero le garanzie a quegli imprenditori che sono maggiormente in difficoltà poi dobbiamo parlarci con grande franchezza c'è una fascia di imprenditori che non necessita di supporto e di ulteriori garanzie lei davano un esempio necessita di investimenti partecipativi è un'altra cosa ma non bisogna avere una consulenza importante torniamo su questi discorsi poi passiamo anche a lei perché diciamo abbiamo la pubblicità e siamo un po' in ritardo pochi secondi e poi torniamo con voi naturalmente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti